L'emergenza coronavirus non ha risparmiato nessun settore del mondo del lavoro. La denuncia arriva dai sindacati padovani che hanno stimato danni ingenti per le imprese. Sono circa 115 le aziende e le cooperative della provincia di Padova che hanno fatto richiesta di case integrazione ordinaria, fondo di integrazione salariale e fondo di solidarietà. Al momento potrebbero essere coinvolti 2.400 lavoratori con un numero di 3.200 giornate lavorative, ma i numeri sono destinati a raddoppiare. Tra i settori più colpiti il turismo e l'agroalimentare. Di settori molto colpiti direttamente è quello del turismo. Noi poi nel territorio di Padova abbiamo il bacino termale e quindi è già fondamentale, è un grandissimo sfogo quello. Tenete presente che ci sono 7.000 dipendenti solo sul bacino termale e 15.000 dipendenti su tutta la provincia di Padova. Questo è veramente gravoso perché purtroppo allo stato attuale non tutti hanno ammortizzatori sociali. Ci sono problematicità che potrebbero derivare anche dalla mancanza di mano d'opera nel settore primario perché purtroppo tanti lavoratori stagionali stranieri se ne sono tornati nel loro paese d'origine. Colpite anche le cooperative sociali che operano negli asili nido, nella logistica, il settore calzaturiero legato alla Cina e l'artigianato senza contare l'impatto sulla sanità. Già prima dell'emergenza coronavirus i sindacati avevano denunciato la mancanza di personale e turni estenuanti per medici, infermieri e operatori sociosanitari dell'azienda ospedaliera di Padova. Ora la situazione è critica visto che da giorni gli ospedali lavorano senza tregua. Questa è un'emergenza che ha delle dimensioni importanti. Il personale era già sottorganico in precedenza. Questo bisogna aggiungere poi che molti di questi lavoratori, una parte di questi lavoratori chiaramente, sono anche in condizioni di isolamento, quarantena per aver avuto dei contatti diretti. Sono in previsione delle assunzioni. Speriamo siano sufficienti. Noi quello che chiediamo in questo momento è davvero un forte investimento in questo settore che garantisce ancora una qualità di assistenza e di intervento tra le migliori al mondo. Per questo i sindacati chiedono l'attivazione degli ammortizzatori sociali. Vogliamo innanzitutto la possibilità di estendere gli ammortizzatori sociali a tutti quei lavoratori e lavoratrici che ne sono sprovvisti. Siamo in una condizione di assoluta emergenza, come già da tempo si dice, ed è evidente che non possiamo mettere limiti e porre dei paletti. devono essere estesi, devono essere rapidi e devono avere delle modalità di richiesta fortemente semplificate.